Brucia l'estate San Leonina, quasi un anticipo di ferragosto, fiamme, fuoco, caos, disordine, poi il traffico bloccato. Tutti a chiedersi perché e come mai. Le palette rosse della polizia, da qui non si passa, girate da via Cavaleri Magazzini oppure ritornate indietro. Il viale delle dune è bloccato, tutto fermo. Chi è sceso dall'automobile e chi ha camminato a piedi si è avvicinato terrorizzato, impaurito, come se lì tra la prima e la seconda traversa fosse caduta una torre gemella, un ground zero di casa nostra. Prima uno, poi due, poi anche il terzo camion dei vigili del fuoco. Incredibile. Per spegnere le fiamme al Jamaica Café si è svuotata la caserma di Villa Seta e altri rinforzi sono arrivati dal villaggio Mosè. Sembrava che l'acqua non bastasse mai. Guarda caso proprio vicino al mare. Al viale delle dune sono state posteggiate dieci autobotti. Sul referto dei vigili del fuoco è stato scritto l'intervento alle 0.15, un quarto d'ora dopo la mezzanotte, il rientro alle 5 del mattino. Quasi cinque ore di lavoro. Il locale è stato costruito con il legno, il cibo preferito dalle fiamme che hanno rosicchiato tutto. Le vampate, poi l'acqua, poi i tizzoni e poi allora ancora fuoco. Il Jamaica Café non era aperto, le porte chiuse, nessun ferito. Perché il fuoco? Come si sono scatenate le fiamme? Ecco gli interrogativi che martellano adesso i vigili del fuoco, la polizia e poi i proprietari del Jamaica Café. Due soci e uno dei due è titolare di un negozio di bricolage al villaggio Mosè e di un night nella zona industriale di Agrigento. La dottoressa Gina Castelluzzo, capo della squadra volanti della polizia, conferma nessuna traccia al momento dell'origine dolosa delle fiamme. Secondo alcune testimonianze, sulla spiaggia, sulla sabbia, sono stati rinvenuti segni di pneumatici. Come se qualcuno fosse passato da lì con un'automobile, forse un fuoristrada oppure con una motocicletta?